Il dottor Patrizio Mazza è candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista La Puglia domani fitto presidente. Ecco dottor Mazza immagini di avere dinanzi a sé un elettore, ogni elettore e rivolga il suo appello al voto. Perché votare Patrizio Mazza? Votare Patrizio Mazza significa mettere in campo e mettere a disposizione della politica vera un'esperienza di oltre 40 anni in sanità ma non come burocrate ma nel lavoro quotidiano con i pazienti. Quindi sapere che cosa significa essere paziente oggi e conseguentemente votare Patrizio Mazza significa pensare a quello che possa essere il futuro di domani per i nostri giovani in termini di salute, in termini di prospettive di lavoro e in termini di prospettive ovviamente economiche di benessere sociale che significa mettere le basi per la Puglia di domani.